Venerdì prossimo alle 21 all'alberia Feltrinelli di Arezzo si tratterà un tema importante che riguarda la storia d'Italia, anche i misteri della storia d'Italia, si parlare della strage di Capaci. La strage di Capaci, viene Angelo Corbo a presentare il libro La strage di Capaci, lui è uno dei tre poliziotti sopravvissuti alla strage, lui era l'agente di scorta al giudice Falcone, racconterà quegli tragici eventi, quei tragici momenti, ma si spingerà più in là, ci farà delle domande, farà scoprire delle aneddoti e soprattutto farà capire o comunque ci interrogerà sul fatto che è vero che la mafia ha messo materialmente la bomba, ma vorremmo capire chi c'è dietro a questa strage, le tante strage d'Italia che hanno insanguinato e hanno tolto di mezzo degli eroi come Falcone, come Borsellini e come tanti altri, quindi un grande evento di cultura nazionale, un evento noi li abbiamo chiamati eroi contro la mafia, questi sono eroi che si sono immolati contro la mafia. Anche perché questa dimensione oscura poi non viene mai fuori in tutte queste pagine molto diverse ma accomunate da questo. È il grande male dell'Italia se si vuole, molti di loro, molti magari di quei nomi che vengono sussurrati o comunque si trovano nei libri poi hanno fatto carriera nei più alti livelli delle istituzioni, ecco credo che se l'Italia vuole veramente ripulire e ripartire dobbiamo fare pulizia di questi personaggi, credo che il libro di Angelo Corbo sia un ottimo spunto, un'ottima riflessione soprattutto per chi vuole vedere la cultura a 360 gradi come uno di cultura nazionale.